Credo che Fiumicino sia un comune molto particolare, ha grandissime potenzialità, ha moltissimi interessi nazionali che si svolgono su questo territorio, a differenza di tantissimi altri comuni e quindi solo pensare all'aeroporto credo che ci faccia pensare ad uno degli snodi più importanti dello sviluppo, del turismo, delle opportunità di lavoro, di occupazione, di importanti investimenti che sicuramente si faranno nel futuro in questa realtà territoriale. Il problema è avere un'amministrazione comunale che sia in grado anche di intercettare queste realtà e farle atterrare nel comune di Fiumicino e non mandarle solo da altre parti come purtroppo è stato negli ultimi anni. E poi tante altre cose, il mare, la grande realtà della pesca che qui è sul Fiumicino che va rilanciata, che va sostenuta, che va promossa e che certamente ha delle rilevanze sia europee che nazionali, oltre a quelle chiaramente dell'attenzione da parte dell'amministrazione comunale. La salvaguardia delle realtà balneari, del demanio marittimo, che è un tema che è stato dimenticato da Zingaretti, è stato dimenticato anche dalla gestione del demanio statale, che ha bisogno quindi di avere un'amministrazione comunale che sia in grado anche di andare a battere i pugni sui tavoli sovracomunali per poter difendere una realtà economica così importante che esiste su questo territorio. Quindi a Fiumicino c'è certamente l'interesse e il lavoro che deve fare l'amministrazione comunale, ma ci sono bisogni e interessi nazionali e sovracomunali che devono essere difesi e sostenibili. Onorevole Baccini, praticamente ha tirato giù un programma elettorale, Ciochetti. Io volevo ringraziare Onorevole Ciochetti perché la sua candidatura e oggi la sua elezione è che il Parlamento rappresenta un valore aggiunto per la crescita della nostra città. Bisano ha parlato di sviluppo e su questa parola dobbiamo costruire un grande pilastro, il pilastro delle nuove generazioni con una casa pubblica comunale che sia non la casa delle automobili ma la casa dei cittadini, delle persone che possono costruire il proprio futuro, il bene comune, la qualità della vita in una città bella che può essere intermodale e interattiva. Si vicina a un'idea e su questo dobbiamo costruire il nostro lavoro.